Chilometro Zero, riflessioni a filiera corta su alimentazione sostenibile, consumo critico ed ecologia urbana. Un programma di Jonathan Ferramola. Buongiorno ascoltatori, benvenuti a Chilometro Zero, programma radiofonico dedicato a tematiche ambientali, ecologiche e di sviluppo sostenibile. Oggi vi racconto una storia che è nata nello stato di Minas Gerais, sud-est del Brasile. È una storia di lotte per la terra, di sfruttamento, di ribellione e di riscatto. La storia di un popolo che da decenni ormai ha imparato che la terra si conquista metro dopo metro, con sacrificio e dedizione.